Buongiorno signori, io sono Mr. Lull e questo vuole essere un video un po' speciale con una sorpresa finale da non perdere. Anzi direi speciale natalizio, visto che uscirà proprio il 25 dicembre. Oggi parliamo di furbetti del reddito di C, e no, parliamo di furbetti dell'Inps, perché il marcio c'è dappertutto. Poi RDC boom di famiglie e riforma. E chiudiamo con, mi raccomando, non perdetevi il finale. Adesso sigla, lasciate un bel like, iscrivetevi e condividete, come se non ci fosse un domani. Partiamo! E partiamo proprio dai furbetti dell'Inps, più che furbetti direi disonesti. Cinque impiegati che dopo aver timbrato, fatto timbrare il cartellino, andavano a passare il tempo al bar, a fare la spesa al supermercato, accompagnavano i figli a scuola, lavavano la macchina, insomma tutto tranne che lavorare. E dopo mesi di indagini da parte della procura di Locri, sono stati sospesi dal servizio. Questi furboni in sei mesi si sono assentati più di 900 volte per un totale di circa 400 ore e con la connivenza di alcune guardie giurate. Ora, questa notizia la riporto non solo per dovere di cronaca, ma perché negli ultimi giorni ho letto dei commenti sotto alcuni video a tema principalmente reddito di cittadinanza, permettetemi, inumani. E mi piace pensare che veramente si tratti solo di troll. Ricordiamoci che le persone disoneste stanno ovunque, come anche fortunatamente quelle oneste. Ad esempio, il responsabile dell'ufficio IMSS del caso appena esposto non ha mai fatto un'assenza nel medesimo periodo di monitoraggio, come giusto che sia. E velocissimi proprio su RDC e sulla sua importanza in questo periodo. I numeri dell'Inps certificano quanto duramente il Covid abbia colpito e stia colpendo tante famiglie. Boom di nuclei richiedenti e percettori rispetto al 2019, infatti. Pensate, Milano fa registrare un più 36% a pari merito con la capitale, Roma. A livello nazionale, invece, l'incremento si attesta intorno al 19%. Il governo, poi lo sappiamo, giustamente sta riflettendo su una riforma del sussidio da adottare in parallelo a quella degli ammortizzatori sociali. C'è molto da migliorare, non lo nasconde nessuno, soprattutto sul fronte controlli, politiche attive e requisiti di accesso. Vedremo cosa succederà. Ma dopo questo pippone natalizio, adesso ci divertiamo un attimo. Partiamo con il primo meme attualissimo anche in questi giorni. Luke, sono il tuo congiunto, scusate ma a me fa riderissimo perché sono un fan della saga. Poi, come non parlare dei server dell'Inps, dell'istituto, intasati anche dalla pimpa e con il noto sito che si è offerto di dare una mano. E chiudiamo proprio con RDC, con il papà di Maio. Date un reddito a quell'uomo e poi grandissimo e compianto Troisi. Ricordati che non puoi fare spese immorali con RDC. Momo me lo segno proprio. Detto questo, signori, io spero di avervi portato anche oggi un contenuto interessante, al contempo avervi strappato anche una risata. Un saluto a tutti, buon Natale, ovviamente, da Mr. Lull. Grazie a tutti.